Un brindisi ai futuri sposi! Allora, siete pronti per il vostro matrimonio? Non proprio. Dobbiamo ancora arredare la nostra nuova casa. E io non ho voglia di girare cento negozi diversi. Ma basta andare da Giuffro Outlet Casa! In un unico punto vendita trovate pavimenti e rivestimenti, parchè, arredi per il bagno, stufe e caminetti, impianti di riscaldamento, e poi cucine, soggiorni, camere, divani e complementi di arredo, ma anche progettazione di interni, preventivi gratuiti e soluzioni chiave in mano. Ti piace, amore? Sì, è fantastico! Da Giuffro Outlet Casa ottieni di più spendendo meno!